bello a tutti ragazzi in questo nuovo video io sono debomber e oggi ragazzi siamo tornati in call of duty oggi ragazzi siamo in una nuova battle royale siamo pronti a vincere tutta questa battle royale con dei compagni di squadra oggi ragazzi spero di vincere perché questo periodo non ho trovato ottimi compagni anche se prima ho beccato un hacker quindi riportato subito sperando di vincere un man of war per partire buono 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 molto buono un r97 un chaicom no preferisco l'r97 al momento un bel giubbottino una bella cassa sto raggiando un botto una bella cassa con arma non mi riproiettili un'arma buona c'è proprio un mirino ma se non c'è troppo sperando che di là ci sia qualche assesario già sei morto diga un'altra parte un'altra parte no ok ci curiamo un attimo cura 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 qualcuno che ci sta sparando ci sta di fatto che c'è una gassa un'adrenalina buona buona l'adrenalina buona buona un'altra parte non c'è uno statico se sta partendo bene abbiamo varie munizioni il problema che non abbiamo un veicolo e questo è un vero problema andiamo in safe che non è importante ma è l'unica cosa che conta spero di lanciare una granata buona ora ci torniamo in safe sperando di beccare un veicolo perché non me la voglio fare tutto a piedi ragazzi forse per un po' di tempo non farò più video perché purtroppo ho i tentativi e forse non fatto per un po' più video questo è quello che volevo dirvi va bene penso per i 18 giorni intanto ci curiamo un attimino voglio scrivere questa bella partita in un bel modo e voglio vincere l'ultima per 18 giorni andiamo qua oh c'è lui quello di cazzo che mi vuole venire a prendere venire a prendere? si opp oppla eccomi sono salito sono salito vai 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 questo vai non no 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 che devo lanciarsi adesso qua ecco di amore come fa presto devi tirare qualche cosa non basta con te parella non sai 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 dobbiamo andare a prendere il giallo e il giallo c'è qualcuno di qua muore lo prende lo prende l'ho preso aggiunto ma l'ho preso andiamo a raggiungere la nostra squadra abbiamo un bel bottino di granate il sull'icottero non è messo tanto bene insomma andiamo andiamo per casa noi siamo a tre il no ha preso fuoco ci penso io ci penso io ci penso io ci penso io no 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 ti curo io ti curo io tranquillo 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 ti ho salvato no muori sei morto eh sei morto toccolo ma hop 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 morto un aviotrasporto ok un safe dov'è hop dobbiamo andare in safe dobbiamo volare dobbiamo volare in safe corriamo in safe corriamo in safe corriamo in safe vediamo se abbiamo bisogno di aiuto oh qui c'è una rassa a casa ah troll eh rassa un po' trollina qua vediamo un'arma eh queste mi servono queste mi servono queste mi servono un'altra bella cassa in onora ecco anche queste mi servono queste no beh c'è un amico che mi sa che ha bisogno di aiuto di aiuto ti ho preso e sei morto oh queste sono buone queste sono buone queste sono buone queste sono buone muori muori sei mortoè sei morto è sei morto ok ok Scusate mio papà, io parto, raggiungiamo due, e qua, lo raggiungiamo, esatto lo capite proprio bene, lo raggiungiamo, se non abbiamo nulla tempesta, ecco questo è buono, però no, se vuoi, se vuoi, se vuoi, se vuoi, se vuoi, se vuoi, siamo in 46, hai idea che ce la possiamo fare, ma perché mi ha sostituito questo, no, what? no e qua c'è bisogno di un bel merito 7, no, qua c'è bisogno, bisogno di un bel merito 7, ma piaci di nuovo quello che era nostro, mi sono curato per bene, sono 7 kg in questa partita, proprio, vabbè, no, cacchio, eh vabbè, giocheremo con quello, ho lasciato un world così, eh vabbè, sono mezzo scemo, andiamo a prenderlo, andiamo, 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 a prenderlo, andiamo a prenderlo, io provo, provo, sono piuttosto, c'è qualcuno, vado a prenderlo, Non vi avrò mai là Almeno tento Mori Mori E me ne vado Mori 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 Non mi esporto Devo correre E andarmene La safe È vicino Andiamancene Andiamocene 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 Siamo 22 Io ho 10 kg E me ne sto andando Avete capito bene Sto facendo la partita della vita E andiamo a ucciderli tutti E andiamo a ucciderli tutti Scusate mio padre ancora una volta Quanto può essere scemo per morire due volte Mi tocca andare a prenderlo Mi tocca Perché sono un bravo compagno Ah sta andando lui Dio Dio Adio 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 Dio C'era una infesa Siamo morta 3 contro 5 Se la vinciamo Madonna Se la vinciamo Madonna Andiamo ragazzi Andiamoci a portare via Andiamo a prendersi la vittoria Andiamo Andiamo Qui Andiamo Andiamo Jeep Grazie. Sì andrà l'aera, manca uno, ne 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 manca unole, ne manca uno, ne manca uno, ne manca uno. Si starà scamperando male da una parte.. Non lo vedo Non lo sento Abbiamo vinto Abbiamo vinto Winner Missione completata Prima di far In cerca di venerdità scambate forse Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un commento E mi piace E bella